Roberto Scaione, regista per passione, autodidatta, hai un'altra professione, ti occupi di tutt'altro, però insomma una tua opera è stata premiata, ha avuto la menzione d'onore al Festival di Cefalui. Innanzitutto, come nasce questa passione per il cinema? Questa è appunto una passione, io non ho fatto corsi, non ho mai studiato sceneggiatura, montaggio, regia. Sono, tra virgolette, delle collardate che nascono tre amici che si prestano al gioco di questa finzione narrativa. Fortunatamente ho trovato gente un po' più folle di me, che mi ha seguito in queste avventure, ci siamo divertiti. E appunto ci sono prestati molto piacevolmente a questi esperimenti. Ti aspettavi questo riconoscimento al Festival di Cefalù? No, sinceramente no. Sia perché si tratta di un video amatoriale, là in mezzo invece tra l'altra quarantina di finalisti c'erano dei video fatti abbastanza bene, devo riconoscerlo. E poi queste giudizie, queste attestazioni di merito lasciano un po' il tempo che trovano. Perché comunque sono giudizi dati da uomini ad altri uomini. Quindi vanno commisurati al valore un po' anche ai parametri che vengono usati. Ogni parametro chiaramente dà un giudizio diverso. Ma parliamo di questo video, di questo, mi pare che è un cortometraggio. Cosa narra, come si intitola? Il video si intitola La nuova umanità. Parla di una sorta di parabola goliardica che va dalla pre-storia fino a un futuro post-apocalittico che ovviamente non ci auguriamo. Infatti un caro amico mi ha detto che è come se fosse una profezia per immagini. Io spero di no. Ma tu in questo film poi ti poni l'interrogativo di come andrà a finire l'esistenza? Sì, lì c'è diciamo uno spunto narrativo che viene messo in atto prendendo appunto spunto da quella che è la cronaca politica degli ultimi anni. Purtroppo è anche un po' tragica quando si sente parlare un po' di nucleare, Corea del Nord, un po' questo conflitto tra Russia e Ucraina. Però l'abbiamo cercato di risolvere in una maniera molto fiduciosa e speranzosa appunto per la nuova umanità. Un'opera è detto una goliardata fra amici, ma chi è che ti ha dato una mano e con che ruoli? Sì, innanzitutto vorrei ringraziare Pierangelo Palermo che è un mio grande amico che mi ha seguito diciamo fin dall'inizio di questa mia avventura cinematografica iniziata ormai circa quattro anni fa. Lui ha avuto un ruolo fondamentale innanzitutto nel crederci, nello starmi accanto, forse anche più di me. Nella fattispecie per questo video vorrei ringraziare anche Andrea Ferrarella che mi ha dato molti spunti con idee, anche curando delle scenografie nelle parti in cui ha partecipato. E poi tutti gli altri comunque si sono prestati veramente molto bene, ognuno cercando di calarsi proprio nel ruolo. E poi alla fine comunque tutta gente che non ha mai studiato parimenti a me. Ma in qualche modo a volte queste cose tra amici riescono, non dico meglio, ma comunque riescono anche in maniera gradevole. Non è la tua professione, ma avrai qualche altro obiettivo o per adesso ti fermi e poi chissà magari ci riproverai? Ma attualmente non sto girando nulla, diciamo altre idee ci sarebbero, ma mi sono voluto un attimo fermare per dare un po' più spazio a quella che è la mia vera passione, che poi alla fine è la scrittura, perché tutto nasce per me dalla scrittura, dal linguaggio, che sia poi visualizzato in una maniera più cinematografica o comunque scritta, appunto con la parola stessa, ma tutto nasce appunto dal linguaggio, dalla mia passione proprio per le parole.